Il territorio del ministero dice che mancano circa 3.000 insegnanti, di cui 1.000 solo di sostegno. Il minimo indispensabile per avere l'orario che le famiglie avevano avuto l'anno scorso è di 468. Nessuna risposta viene data al Veneto. Poi si scopre che per la Sicilia, venerdì, trovano 4.600 posti in più. Il richiamo al ministro Giannini è nulla è servito. La scuola veneta rimane orfana di insegnanti e di presidi. Inizia il 12 settembre ma senza poter assicurare il tempo pieno alle famiglie né il sostegno continuativo ai ragazzi con disabilità. In sei anni gli alunni sono aumentati di 30.000 unità ma il governo ha tagliato 5.000 classi. Una situazione esplosiva che Forza Italia ha deciso di portare in Parlamento. Come Forza Italia noi abbiamo deciso di portare avanti questa battaglia. Prima in consiglio regionale con l'appoggio di tutti i capigruppo, di tutti i partiti e ora alzando il livello del tono a livello parlamentare chiedendo l'intervento anche dei nostri rappresentanti a Roma.